Non dimenticherò mai, cari fratelli e sorelle, quando giovane sacerdote rimassi colpito dall'esempio di una santa mamma, che donava una piccola offerta per la celebrazione di una santa messa ogni mese, in sultraggio delle anime più abbandonate del santo purgatorio. Incuriosito una volta le chiese il motivo e la risposta fu Padre, lei non mi crederà, ma ogni volta che chiedo una grazia al Signore, sperimento la potenza della loro intercessione. Cari fratelli e sorelle, questa sera, nella celebrazione della santa missa, in occasione della commemorazione di tutti i fedeli defunti, affiderò al Signore tutte le vostre intenzioni per i vostri cari defunti. Ricordiamo che mentre da una parte essi possono fare molto per noi, ancora per le linee sulla terra, dall'altra non possono fare niente per se stessi e chiedono la nostra preghiera e le nostre opere buone. È tutto per adesso. Ciao e Dio vi benedica sempre. Grazie. Grazie.